Siamo andati a Gesù Cristo. Il brano del Vangelo di oggi continua un po' quello che abbiamo ascoltato ieri. Gesù che è questo brano del Vangelo, è questo dipantico, con i dottori della legge e i farisei. E la cosa che mi tornava ascoltando questo brano è che Gesù non fa altro che mostrare a questi uomini quella che è la verità. Innanzitutto perché è lui una verità, l'abbiamo ascoltato nel versetto del Bionico, io sono la mia, la verità e la vita. Ma Gesù non mostra solo se stesso che è la verità. Gesù attraverso questo modo, dovremmo dire, anche un po' forte, ha come scopo non tanto quello di umiliare chi ha davanti, non vuole umiliare i suoi interruttori, ma il suo scopo è quello di portare i dottori della legge e i farisei che conoscevano benissimo la parola di Dio perché le insegnano a ritrovare la verità di se stessi. E la cosa che mi tornava molto è che, inanzi alla verità oggettiva che Gesù mette loro inanzi, no? Quaia poi di costruire queste popoli dei profeti, di fare gli annuncisi, quaia poi ottenere la legge di avere portato via la chiave della conoscenza, cioè lui sta dicendo loro cose che oggettivamente sono vere. Eppure, inanzi a questa evidenza, loro, nonostante questo, si conclude il Vangelo, sono ostili a Signore, cioè rimangono chiusi nella loro posizione, ma si mettono in discussione. E questo è un atteggiamento che gli porta a chiudersi in se stessi, la cosiddetta sclerocardia, la chiusura, la durezza del cuore. Sono così maccecati dal proprio io che non riescono ad ammettere la verità oggettiva che è inanzi a loro. E questo diventa un problema non solo per loro stessi, perché quando ci si pone così inanzi alla verità, quando non si vuole lasciar mettere in discussione della verità, ma si vuole rimanere fissi nelle proprie posizioni, certamente questa cosa non permette la relazione, no? Anche nelle nostre relazioni umane, se noi non ci lasciamo mettere in discussione anche i raggianti, molte volte i raggianti ci vorreggono e non lo fanno mai con intenzione necessariamente di ferirci o di farci letare, ma è semplicemente l'altro proprio perché mi vuole bene, mi fa aiutare un atteggiamento sbagliato che io vivo, che io metto in altro, ma se io non colgo l'occasione di quella verità che mi viene posta inanzi come un'occasione di crescita del mio bene, ma rimango chiuso in me stesso, nelle mie posizioni, nei miei schemi mentali, automaticamente questo mio atteggiamento impedisce di crescere nella relazione con l'altro, ma anche di crescere in me stesso e questo atteggiamento nello stesso tempo diventa uno stagolo anche degli altri, come abbiamo ascoltato, Gesù dice ai Dottori di Daniele che fa meglio portarlo via la chiave nella conoscenza, cioè non solo voi con questo vostro atteggiamento vi inviate di conoscere, di conoscerevi, nella Bibbia quando si parla di conoscenza, non si fa riferimento alla conoscenza, non lo intendiamo noi, il sapere intellettuale, ma nella Bibbia la conoscenza è una relazione d'amore, quindi Gesù gli sta dicendo non solo voi con questo vostro atteggiamento vi private di entrare in una relazione d'amore con me, ma facendo questo, questo vostro comportamento, voi impedite anche agli altri di vivere questa relazione con me. E questo ci deve interrogare, ci deve far vedere la sicurezza del fatto che noi siamo i responsabili degli altri, noi siamo chiamati a custodire gli altri, non solo noi stessi, siamo chiamati a metterci in discussione grazie al Signore, a ricerci della Sua parola, non solo per una crescita personale, ma intanto noi pensiamo sì, dobbiamo crescere personalmente nelle relazioni con Dio, no, non basta questo, è importante, ma non può finire lì, noi dobbiamo crescere nella relazione con il Signore, perché facendo questo noi invitiamo anche gli altri a incontrarlo, perché molte volte gli altri non incontrano il Signore, anche per colpa nostra, perché magari noi con i nostri motivi di fare, con i nostri atteggiamenti, ecco, portiamo gli altri ad allontanarsi dal Signore, ad allontanarsi da quella che è la relazione con Lui. Allora veramente, alla luce di questa parola, vogliamo chiedere al Signore oggi questa grazia, la grazia del diventato e del cuore, cioè la grazia di fare il nostro atteggiamento, di chi si lascia mettere in discussione nella parola di Dio, e il Signore ci parla non solo con la Sua parola, ma ci parla anche con i fatti della vita, ci parla anche con le persone che ci ha accanto. Solo se noi abbiamo un cuore umile, quindi un cuore docile, noi riusciremo ad accogliere quello che il Signore ci dice, e quindi solo con il cuore umile noi possiamo veramente scegliere di lasciarci trasformare da Lui. Quindi chiediamo al Signore proprio in questa Equerestia il dono della facilità del cuore. Siamo dato a Gesù Cristo.